Cari lettori, buongiorno e buon 2023 a voi tutti da Edizioni Rizza. Abbiamo atteso e festeggiato l'arrivo di questo nuovo anno, come sempre, carichi di entusiasmo, di aspettative, di speranze, chiedendoci, quest'anno sarà meglio del precedente? Avremo un po' più di tranquillità? Come andranno le cose nel mondo, la guerra, la politica, l'ambiente? Naturalmente lo scopriremo giorno dopo giorno, ma c'è una cosa che sappiamo con certezza e che dobbiamo ricordare, che questo che stiamo vivendo è il nostro tempo, il nostro, in cui siamo nati e che ci è dato di vivere. E il nostro compito, il nostro diritto e dovere è esserci nel modo più intenso e partecipo possibile. Come disse Mark Twain, tra vent'anni non sarete delusi dalle cose che avete fatto, ma da quelle che non avete fatto. Allora, levate l'ancora, abbandonate i porti sicuri, catturate il vento nelle vostre vele, esplorate, sognate, scoprite. Quindi, ispirandoci alle parole del famoso scrittore statunitense, quest'anno sarebbe bello provare a fare almeno una cosa nuova, perché sappiamo che le novità portano sempre più passione nella vita. Non sto parlando di imprese straordinarie, sto solo pensando a quello straordinario che vibro ovunque, anche nelle piccole cose, come spesso ci racconta Rizza. C'è qualcosa che non è ancora fatto? Hai un sogno nel cassetto? Tu che mi stai ascoltando? Un sogno che resta lì inascoltato? Non pensi che sono proprio i nostri sogni, la nostra garanzia di felicità, di giovinezza, di vita? Allora, il mio augurio è con me quello di tutto lo staff di Rizza, è quello di riuscire quest'anno a realizzare una piccola cosa che appartiene al mondo dei tuoi sogni. E se qualcuno di voi obiettasse che certe cose avrebbe dovuto farle quando era più giovane, rispondo con un proverbio cinese. Il momento migliore per piantare un albero era vent'anni fa, ma il secondo miglior momento è ora. Buon 2023, da Rizza, il vostro editore del benessere.